Con questa donazione di Banca Simetica, il reparto di Oncologia e Matologia acquisisce un sistema di informatizzazione del processo di somministrazione della chemioterapia. Si chiama Piattaforma Oncologia Sicura e serve proprio per mettere in sicurezza il paziente rispetto alla somministrazione di farmaci che possono essere tossici. Il processo è molto complesso, va dalla prescrizione del farmaco all'allestimento in farmacia fino alla somministrazione da parte dell'infermiere della chemioterapia stessa. Si tratta di molte soluzioni che vengono infuse in sequenza e l'errore umano è comunque una possibilità che questo processo di informatizzazione ha la possibilità di azzerare grazie all'utilizzo di tablet e di barcode che permettono di identificare con assoluta certezza il paziente e il tipo di infusione che deve ricevere.